Finalmente è una buona notizia, sono stati erogati oggi i buoni spesa, sono presenti sul sito istituzionale del Comune, sono fondi governativi, noi abbiamo fatto il nostro dovere come Comune per erogarli nel più breve tempo possibile, quindi vanno i miei ringraziamenti all'Ufficio Politiche Sociali, diretti dal Dottore Ruggero, per il lavoro svolto. Qualcuno pensava che non ci riuscissimo, ma ce l'abbiamo fatta, e l'abbiamo fatta veramente con un impegno sovrannaturale, perché è stato veramente un lavoro difficile, in quanto questi buoni, prima di erogati, si è stato fatto un riscontro per chi ne avesse diritto o meno, e quindi è stata fatta una prima scrematura dei buoni, una seconda sarà fatta sicuramente dalla Guardia di Finanza, alla quale noi invieremo tutti i nominativi a chi è stato erogato il buono. Restiamo connessi per gli auguri di Natale. Restiamo connessi per gli auguri di Natale. Restiamo connessi per gli auguri di Natale.